E adesso è arrivato il momento di studiare! Studiamo inglese! The British Ritterland Fleming created James Bond in his 1953 novel Casino Royale Meglio lasciar perdere E allora? Lanciami ver... Ok, buon rinterno LOL! Eccovi il secondo episodio della serie survival forever alone di Minecraft Spero che vi piaccia... Vi piaccia... Cioè anche l'altro vi piaciuto... Vabbè... Il primo episodio... Il secondo episodio... Vabbè... Iniziamo... Il primo 99... Via! Bene, ed eccomi qua ragazzi, sono tornato con il secondo episodio come vi ho detto prima E vi avevo lasciato che dovevo costruire qui la casa Però visto che qua l'albero si stava distruggendo Ho visto che avrei potuto ricavare delle mele Un altro pezzo di legno E qualche alberello E ora qua Bene, adesso inizierò a farlo a casa Allora Lompiamo questo blocco qui E la farò interamente di legno Non molto grande naturalmente perché sarà solo provvisoria perché sarà di passaggio da questa parte Vabbè l'erba la lascio E la faccio alta 3 o 4 Cintanto che ci sia la porta e io Però non farò in... Sì, non utile... Non... Scusate Cercherò di utilizzare il meno legno possibile Perché mi servirà anche per altri scopi Adesso Ecco qua la casetta Pavimento No Quindi banco da lavoro Craftiamo una fornace Mettiamo il carbone e il ferro Adesso mi prendo un pezzo di carbone Non so neanche perché ho fatto tutto questo giro qui È stata praticamente una stupidata Facciamo 4 torce E le piazziamo Vabbè Qua adesso non sarà niente Ne piazzerei una qua fuori Non so Potrei fare anche qualcosa per avvallire la casa Scusate se parlo in modo strano Non so il perché parlo così oggi Ah Sì Ho mal di gola Quello che avrete pensato voi adesso È idiota Facciamo la stradina in legno Ma sì Le faccio anche il pavimento Ma tanto poi mi vado a prendere altro legno La porta La porta La porta Momento Perché si deve ancora spawnare un mob Non si è ancora spawnato Aspettate che controllo le impostazioni Madonna Bene adesso Non so se Prendermi anche Ehm Andare a prendermi Del Dell'altro legno E della pietra naturalmente La ragno Oddio Madonna Ah Avrete notato che la serie l'ho chiamata Forever Alone Che non l'avevo detto nel primo episodio Perché dovevo ancora Dovevo ancora scegliere il titolo Comunque l'ho chiamata Forever Alone Perché sono da solo In Single player Quindi Sono da solo E Forever Alone Per sempre solo Albrello Mela 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 Oh madonna Crepa Salvo per poco Meglio passare la maggior parte Del mio tempo in casa Oh Perché sta arrivando Sono qui Sono un idiota Ecco Così non può entrare La porta Non so se romperla O cosa Vabbè intanto qua Controlliamo Oh è già finito Quindi È il momento Di craftare Armatura Cominciamo Con un corpetto E anche gli stivali Perfetto Almeno adesso Ho un po' di protezione Direi di scavare sotto Casa mia Dove abita un DJ Che ogni notte Organizza Mega rave Controlliamo Un ferro Direi di andare A prenderlo Mamma mia Dove è qua Questo ferro Diventerà tutto mio 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 si Tutto mio Cos'ha in mano Ah dei semi Ma che senso andare in giro con i semi Non fai niente con i semi Capisco una spada Ma Dei semi Non so Sarà uno zombie agricoltore Eh agricoltore Allora Vediamo dove era l'uscita qua Minchia mi ricordo Dove sono entrato Da qua Sì perfetto Quindi Mettiamo giù la terra Mettiamo cucinave Anche questa Tocca Buona Intanto Mi crafto Una spada In pietra E Un'ascia E anche qualcos'altro Quindi ascia E Piccone Che è quasi lotto Bene Direi di andare all'attacco Zombie Ah no Un alberello C'ha in mano Sì Pallina di slime Lo scheletro Per la farina d'ossa Mi Ah Cazzo You Crepa Perfetto Farina d'ossa Riprendermi anche qua E uccidere Eh no Meglio andare via Corri 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 Ecco Che sono tutto quanto Buccato Aspettate Ecco Ho chiuso la porta Che così non mi disturbano Vediamo qua se posso Oh Perfetto Posso già iniziare a farmi Zambali Vediamo se c'è qualche altro Mob in vista Scusate se sentite mia sorella Che Che canta Dov'è lo slime Dov'è lo slime? Allora guarda È il momento di giocare adesso a Dov'è che l'ho messo? Ah sì L'ho messo qua The Legend of Zelda Schrevo sguarda L'ho messo qua Ma che stai facendo? Stai facendo Stai giocando Robby La stella Fai in camera tua E prenditi Dovevi studiare? Prenditi il libro E fai in camera tua studiare Mammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammammamm allora oddio ma stavo registrando vabbè allora direi che per questo video mi vedi i capelli in bocca direi che per questo video di mio figlio creeper ma il 99 pulisca non so come si chiama direi che è tutto ciao ciao ciao